Sono passati nove anni dallo sbarco sui listini di borsa e poche ore dal record storico appena segnato dal titolo di Poste Italiane. Era l'ottobre 2015 infatti quando il titolo fece il suo esordio a Piazza Affari, con un valore per azione in fase di collocamento di 6,75 euro. Tra alti e bassi l'inizio è stato un po' a rilento. A febbraio 2016 infatti il valore delle azioni scese intorno ai 5 euro, ma poi la trasformazione avviata dal nuovo management nel 2017 ha consentito al titolo di raddoppiare la quotazione. Gli ultimi tre piani industriali, partendo da Deliver 2022, presentato nel 2018 con l'obiettivo di massimizzare il valore della rete distributiva di Poste Italiane, passando per 2024 Sustain and Innovate, presentato nel 2021 e aggiornato nel 2022, sino al nuovo piano Deconnecting Platform di marzo 2024, hanno reso a Poste Italiane la più grande piattaforma integrata e omnicanale di servizi in Italia, leader nella logistica, nel settore assicurativo e nei pagamenti. Risultati che insieme al progetto Polis hanno confermato il ruolo centrale di Poste Italiane nel processo di inclusione e di digitalizzazione del Paese e che non sono sfuggiti agli investitori, tanto che il valore delle azioni veleggia ormai intorno ai 13 euro. Un risparmiatore che a ottobre 2015 avesse investito 100 euro sulla quotazione in borsa di Poste Italiane, oggi tra performance del titolo in borsa e dividendi staccati e subito reinvestiti, ne avrebbe in tasca 310, più del triplo dell'investimento.